Forse non sembra, ma Timothée Chalamet è americano, con cittadinanza francese. Di lui sappiamo che è tifoso romanista e ha 18 milioni di follower su Instagram, ma soprattutto è uno degli attori più ricercati per film e serie tv. Ciao, sono Valerio Novara. Chalamet nasce nel 95 a Manhattan da padre francese e mamma americana. Da piccolo frequenta una scuola superiore specializzata nello spettacolo e fin da subito mostra grandi attitudini per la recitazione. A 13 anni prende parte a due cortometraggi e nel 2012 partecipa ad alcuni episodi della serie tv Royal Pains e compare nella seconda stagione di Homeland. Il debutto al cinema però avviene con Men, Women & Children di Jason Reitman del 2014. Lo stesso anno interpreta il figlio di Matthew McConaughey in Interstellar di Christopher Nolan. Ti voglio bene, Tom. Fai buon viaggio. Sì. Prendete cura della nostra fattoria. D'accordo. Ehi, posso usare il tuo furgone? Ma è nel 2017 che la sua vita cambia grazie al ruolo di Elio in Chiamami col tuo nome, film diretto dall'italiano Luca Guadagnino. La sua interpretazione gli vale una candidatura come miglior attore agli Oscar e nel 2019 lo vediamo in Piccole Donne, Un giorno di pioggia a New York e Il Re, un riadattamento di Netflix dei drammi di Shakespeare. Nel 2020 prende parte a The French Dispatch di Wes Anderson ed entra nel cast di Dune, film diretto da Vinneb, nel ruolo del protagonista Paul Atreides. Chalamet recita anche nella pellicola di Netflix Don't Look Up al fianco di attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Nel 2022 è nel cast del nuovo film sui cannibali diretto da Luca Guadagnino e intitolato Bones and Doll e quest'anno tornerà al cinema con la seconda parte di Dune. Tra le curiosità che riguardano questo attore ricordiamo la sua passione per la Roma. È stato avvistato sugli spalti dell'Olimpico durante il match tra Roma e Monza quest'anno e si è fatto una foto con l'allenatore Giuseppe Mourinho alla fine della partita. Per quanto riguarda il suo cuore, sappiamo che ha frequentato la figlia di Madonna dal 2013 al 2017 durante il liceo. Nel 2018 è poi iniziata la love story con la figlia di Johnny Depp, terminata presumibilmente tra il 2020 e il 2021. Insomma, non c'è dubbio che Timotesia Lame sia uno degli attori più in crescita del panorama internazionale in questo periodo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace come recita, se vi piace come attore e soprattutto qual è il vostro film preferito interpretato da Timotesia Lame. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, ricordatevi di seguirci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità che riguardano il meraviglioso mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!